ok, riattivare la registrazione quindi quest'anno finiremo le lezioni prima del 12 giugno sì, allora adesso ne parliamo quindi buongiorno a tutti prima di iniziare questo ultimo argomento del corso che è appunto l'autenticazione come ho anticipato ieri su Slack allora sulla pagina del corso che vi ricordo è quella che è stata indicata nell'email all'inizio del corso media politi di letta barra av1 poi vi rimanda automaticamente a questa pagina qua ho trovato un calendario che è sostanzialmente aggiornato adesso va bene, manca il link alla lezione di stamattina ma poi finita la lezione lo aggiorno ecco, un esercizio e tutto quanto quindi questa è la lezione di oggi lunedì c'è l'ultimo Big Lab quindi ci sarà l'ultima parte del Big Lab per chi vuole consegnare poi il Big Lab come sempre c'è ancora una settimana prima dell'ultimo laboratorio che sarà il 7 giugno quindi la scadenza è il 6 giugno come già anticipato per il Big Lab 2 la prossima settimana, il giovedì quindi il giorno diciamo della lezione non ci sarà lezione alle 8.30 ma direttamente alle 10 per chi lo desidera spero in tanti ma diciamo questo è opzionale non è ovviamente argomento d'esame ci sarà un seminario da parte di questa azienda Consoft vi manderemo poi il link per il collegamento forse alcuni di voi l'hanno già anzi no, l'ho già mandato su General c'era quella brochure in cui in realtà questo seminario è organizzato nel contesto di seminari fatti per alcuni altri corsi anche e quindi viene una persona di questa azienda che racconta un po' la sua esperienza appunto o comunque un punto di vista aziendale per quanto riguarda questo tipo di applicazione quindi appunto il titolo era lo sviluppo agile, agile diciamo in inglese di software web, il testing, esperienze pratiche eccetera e racconta un po' che cosa succede in un'azienda nella sua azienda ok quindi non c'è le 8.30 c'è solo le 10 c'è questo seminario di un'ora e mezza che riteniamo insomma sia abbastanza interessante e che quindi vi invitiamo a seguire il 7 giugno c'è il laboratorio e il 10 giugno non c'è lezione diciamo che questi recuperi imprevisti non si sono verificati per fortuna abbiamo raggiunto le 60 ore del corso però siccome il 9 giugno che sono 20 giorni prima della data dell'appello del primo appello del corso pubblicheremo il testo del progetto da sviluppare per dare l'appello a chi lo desidera per dare l'esame al primo appello per chi lo desidera pensavamo lo confermeremo diciamo a breve di fare un incontro con tutti online ovviamente per discutere eventuali dubbi domande eccetera che sicuramente essendo il primo appello essendo il primo progetto appunto per l'esame eccetera verranno fuori anche perché presumibilmente come è successo nell'anno passato molti di voi desidereranno dare l'esame al primo appello adesso non ho guardato online sul portale quanti sono i prenotati se ci sono già presumo che le prenotazioni siano già aperte parallelo da un'occhiata e quindi vi confermerò questa cosa e quindi diciamo possiamo usare questo slot in cui dovreste essere liberi da sovrapposizioni con qualsiasi altro corso per fare questa operazione operazione che salvo imprevisti come abbiamo fatto l'anno scorso verrà ripetuta per ogni appello quindi per ogni appello decideremo poi un giorno un po' dopo che è stato pubblicato il testo del progetto da consegnare per discutere di eventuali dubbi e domande che potreste avere poi non è l'unica occasione ma chiaramente lì ci si può parlare a voce ed è molto più facile discutere poi ovviamente rimane Slack rimane il canale solitamente apriamo un canale su Slack appositamente per ogni appello dunque vediamo se trovo la valanga di esami che ci sono sul portale 29 al momento ci sono 30 ah no questo è l'altro corso ecco ci sono 70 prenotate il primo appello 6 al secondo quindi un po' come ci aspettavamo quindi ci sarà diciamo una certa partecipazione presumibilmente insomma perché poi sapete che ci sono le regole d'esame che abbiamo pubblicato oramai già da tempo che sono quelle che trovate sempre qui nel sito leggetevele con attenzione ne abbiamo tenute in inglese per non avere problemi di traduzione e allineamento tra i vari corsi però se ci sono dubbi di interpretazione mi raccomando chiedete e quindi consegnate mettete come fate per il laboratorio il tag final noi capiamo che avete consegnato lo guardiamo assegniamo una valutazione e poi siete ancora liberi quindi fino a 24 e poi siete liberi sulla base di questa valutazione e decide se venire all'orale oppure no se non venite ho finito lì verrete a dare l'esame a un altro appello con un altro progetto se invece decidete di venire con l'unico vincolo è che non si può rifiutare il voto però abbiamo visto l'anno scorso che non è una cosa così diciamo tragica nel senso che insomma chi viene ovviamente abbastanza preparato sul suo codice se l'ha sviluppato in proprio eccetera quindi diciamo che chiaramente a seconda della chiarezza espositiva e tutto quanto può prendere un po' più di meno però voglio dire se uno prendesse 0 all'orale probabilmente non non passa l'esame ecco perché per dare 0 probabilmente vuol dire che non conosce il suo codice non ha fatto lui lei eccetera quindi bene e diciamo che sulla base del voto che avete preso chiaramente più 6 più gli eventuali punti dei progetti consegnati per il laboratorio avete il voto finale ok quindi direi che credo di avervi detto tutto per quanto riguarda le comunicazioni diciamo così di servizio quindi la domanda sul Slack finiremo prima del 12 giugno sì in teoria usiamo l'ultima settimana per per fare appunto quello che vi ho detto quindi ci sarà un ultimo laboratorio in cui che è escluso dal Big Lab quindi fa parte delle ore del corso e vediamo un attimo che cosa che cosa fare come sfruttarla al meglio per la vostra diciamo per 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 darvi qualche conoscenza in più o qualche esempio o qualche cosa utile per il corso e e poi fondamentalmente il corso termina e pubblichiamo il tema d'esame per il primo appello e il e poi discuteremo insieme e però esguimilmente appunto il 10 giugno ok per gli interessati e quindi se uno non interessa vedere il primo appello se vuole partecipare è libero di partecipare ovviamente però non non è che forse tutte queste risposte o discussioni possono interessare più di tanto ok quindi io direi che se ci sono domande o dubbi scrivete su Live Lecture oppure potete ovviamente sempre intervenire a voce io ve lo ricordo è vero che non è mai fatto nessuno però è vero che poi resta registrato ma se lo volete fare potete potete farlo se no direi che come preannunciato andiamo a parlare dell'ultimo argomento del corso sostanzialmente che è la questione relativa all'autenticazione quando voi usate un'applicazione web di solito non siete gli unici che usate l'applicazione web pensate a Google Drive Gmail il calendario online il vostro Dropbox insomma tutti questi servizi sono orientati a molti utenti quindi la prima cosa che c'è da fare in questi servizi è farsi riconoscere queste applicazioni e farsi riconoscere come fate il tipico meccanismo più base di tutti è username e password bene vediamo come possiamo gestirlo nelle nostre applicazioni web nel contesto in cui abbiamo diciamo sviluppato il corso che poi appunto un server con delle API HTTP accessibile via HTTP e il nostro server express e il React sul lato client quindi andiamo a vedere come fare bene autenticazione allora prima di tutto vogliamo distinguere questa è una questione forse un po' più filosofica però diciamo ci teniamo a fare questa distinzione perché nell'applicazione web ogni tanto è importante capire questa differenza distinguiamo tra autenticazione e autorizzazione autenticazione è il meccanismo per il quale si verifica che diciamo quelli che noi diciamo di essere effettivamente lo siamo io sono Enrico Masala quindi dico che sono Enrico Masala c'è un meccanismo per verificare che sono io che fondamentalmente nel caso più banale è la password è il nome utente che corrisponde a me tipicamente appunto fatto con credenziali appunto username password caso più banale perché ci serve perché così il sistema mi riconosce ed ha l'esperienza utente che desidero io volevo che so tutto configurato col tema scuro volevo ovviamente accedere ai contenuti miei vedere le cose mie e questo va un po' da sé e quindi diciamo il sistema riconosce come me come me e quindi mi dà la possibilità di lavorare sulle cose mie l'autorizzazione è una cosa leggermente diversa nel senso che è un meccanismo che decide che effettivamente una volta che tu sei autenticato quindi sappiamo chi sei hai il permesso di effettuare certe cose operazioni oppure di accedere a certe risorse usare certe risorse e così via per esempio io ho un account sul portale didattica anche voi avete un account sul portale didattica io posso inserire i voti voi no per esempio adesso banalizzando molto con un esempio estremamente banale quindi pur essendo tutti e due riconosciuti quindi autenticati ci sono delle cose che un certo utente può fare un altro non può farle questo è il meccanismo di autorizzazione di solito questa decisione su cosa si può fare viene presa poi insieme al fatto che vi autenticate insieme come un certo utente ma non è necessariamente diciamo per forza da tenere insieme nel senso che per esempio potreste potreste avere delle autorizzazioni che vi vengono concesse mentre siete autenticati perché perché vi chiedete di accedere a certe risorse qualcuno vi conferma questa possibilità e così via quindi le due cose di per sé non sono esattamente la stessa cosa in un caso vi faccio riconoscere come un certo utente e nell'altro caso ho la possibilità di accedere usare certe risorse ok spesso usate insieme no perché perché diciamo voglio decidere con una certa granularità anche abbastanza fine che cosa ogni utente può fare ok cominciamo subito col dire che sviluppare questi sistemi è complicato e quindi noi vedremo solo diciamo il consentitemi di dire il minimo indispensabile per far funzionare qualcosa e farci un'idea di come questo si incastra nel contesto delle applicazioni web perché è complicato serve tempo ci si può sbagliare facilmente magari richiede di interagire con sistemi terze parti per esempio tutti quei bei meccanismi quando andate su un sito che vi dice fai il login con google fai il login con le tue credenziali facebook eccetera ecco integrarsi con terze parti richiede uno sforzo abbastanza sofisticato ecco uno sforzo notevole di capire come funzionano i meccanismi implementarli correttamente eccetera quindi non è solo la questione che vediamo oggi noi per noi di username e password ma può essere anche una questione più complicata dobbiamo tipicamente lavorare sia sul client sia sul server perché sul client dobbiamo fornire un'interfaccia in cui l'utente banalmente mette per dire username e password oppure dice mi autentico con google eccetera e sul server dobbiamo gestire l'arrivo di questo username e password andare a verificare che siano corretti quindi dare qualcosa al nostro client e poi riconoscere che le richieste successive saranno autenticate quindi è molto meglio se diciamo vi attenete alle best practice che sono in circolazione e di cui noi forniamo un piccolo estratto qui nell'eside adattato al nostro scopo e a tutti i processi standardizzati per fare queste operazioni non vi inventate assolutamente niente e quando avete dei dubbi andate a chiedere a un esperto un po' come quando state male andate dal dottore non è che prendete a naso la prima medicina a caso che trovate o cercate su internet diciamo uno può cercare però è meglio se va a chiedere a degli esperti che sanno che cosa stanno facendo e sanno quali sono anche soprattutto i rischi che non è tanto far funzionare magari si riesce a fare però farlo funzionare in maniera che conceda l'autenticazione l'autorizzazione solo a chi deve e non ci siano altri problemi ecco questa è la parte difficile non è tanto far funzionare il sistema perché diciamo se fate un po' di copia in colla a queste slide a forza di mettere insieme i pezzi probabilmente funziona però senza sbagliarsi senza fare senza creare dei problemi di sicurezza potenziali eccetera ecco quella è la parte un po' più ovviamente più impegnativa e servirebbe un corso intero lo diciamo sempre purtroppo è così l'informatica si espande sempre di più e quindi chiaramente lo vedete anche voi abbiamo diverse specializzazioni nel corso di laurea magistrale c'è una specializzazione intera sulla sicurezza perché perché è un argomento vasto è un argomento tra l'altro anche abbastanza interessante in questi ultimi anni perché perché si si vede che è sempre più diciamo importante fare attenzione alla sicurezza dei sistemi ok ci sono diversi strati di autorizzazione qui abbiamo cercato di fare un po' un riassunto questo non è da imparare a memoria ma giusto per darvi un'idea generale di tutto il sistema ovviamente c'è qualcuno che agisce per esempio l'utente l'applicazione nel browser il server eccetera eccetera che cosa fa come lo fa e quando lo fa l'utente banalmente fa il login fa il logout cioè preme sul bottone entra o preme sul bottone esci poi naviga sulle pagine autenticate l'applicazione react deve capire se l'utente in quel momento è autenticato o no perché così intanto gli fa vedere delle cose le fa vedere delle cose differenti all'utente autenticato scrivo ciao Enrico all'utente non autenticato scrivo ciao e basta perché non so chi sei e così via il browser deve darci una mano perché deve ricordare delle informazioni che ci servono a evitare di autenticarci ad ogni richiesta che facciamo vedremo in particolare noi teneremo questa informazione nel cookie nel cosiddetto id di sessione che fondamentalmente teneremo in un cookie per i nostri scopi in questo questa mattina in questi esempi che forniremo e il server deve collaborare nel senso che quando riceve questo identificativo deve riconoscerci come autorizzati quindi deve consentirci di fare tutte le operazioni consentite a quegli utenti autenticati e autorizzati a fare quelle operazioni e quindi dobbiamo andare a lavorare un po' sulla parte server andando a capire diciamo se effettivamente siamo autorizzati oppure a fare l'autenticazione a sloggarci quindi a uscire dal sito e a distruggere l'identificativo di sessione in maniera che non possiamo più fare altre operazioni che richiedono autorizzazione e poi sul lato database anche lì potrebbe essere necessario avere delle credenziali e così via per operare questo non riguarda noi perché usiamo una libreria scriviamo su un file per semplicità però in un contesto reale potrebbe essere diciamo anche da da dover gestire quindi andiamo a vedere qual è il meccanismo base che ci consente di realizzare questo meccanismo cookie e sessioni vi ricordo il protocollo http che già dovreste conoscere è un protocollo stateless cosa vuol dire che ogni richiesta va per conto suo io faccio una richiesta ad un certo url con un certo metodo http get post put delit eccetera eccetera il server mi dà una risposta però però come fa a ricordarsi cosa ho fatto prima di per sé il protocollo versione base non non ce lo ricorda quindi ogni volta che mandiamo una richiesta in teoria dovremmo mandare informazioni di autenticazione se non abbiamo un meccanismo di per ricordarci questa che questa cosa è già avvenuta nel passato ma ovviamente non volete che funzioni così mettete username e password e poi non è che su ogni pagina dovete inserire username e password l'esperienza sui siti web che utilizzate normalmente è quella che la mettete una volta e poi per un po' siete autenticati per esempio siete sul sito online per fare gli acquisti mettete il tutto fate le vostre operazioni e mettete tutto che so in un carrello il carrello della spesa ecco questo per esempio è l'esempio di un'informazione che avete una volta che siete autenticati e che viene mantenuta da qualche parte all'interno dell'applicazione all'interno del server che adesso poi ne discutiamo ed è presente ed è considerata ad ogni richiesta HTTP che viene fatta successivamente nell'applicazione ovviamente non volete che nulla scompare alla prossima interazione con il sito ok bene una sessione possiamo definire come dei dati che vengono scambiati tra due o più diciamo partecipanti alla sessione stessa di solito sono due c'è il client più il nostro server dati di tipo temporane interattivi che diciamo ci consentono di mantenere informazione come quella di prima dicevamo gli oggetti presenti nel carello della spesa e che viene gestita sia dal lato client sia dal lato server questo nel contesto più generale possibile spesso è solamente una delle due dei due partecipanti che mantiene l'informazione più che altro per semplicità quindi che so è l'applicazione client che aggiorna diciamo così il carrello piuttosto che l'applicazione server che diciamo recepisce le richieste e aggiorna il carrello e quindi mantiene l'informazione di cosa c'è nel carrello la sessione inizia a un certo punto e finisce ad un ad un istante di tempo successivo tipicamente quando smetto di essere autenticato quindi quando premo sul bottone di logout hash eccetera ok come facciamo a mantenere una sessione abbiamo bisogno di un identificativo di sessione quindi questo session id identificativo che viene creato nel momento in cui questa sessione viene stabilita ad un certo punto nel tempo viene stabilita una sessione perché perché ho bisogno di un identificativo perché ho necessità di farmi riconoscere dal server quindi se io ad ogni richiesta che il client invia il server invio anche questo identificativo mi faccio riconoscere come richiesta che appartiene ad una certa sessione che quindi ha già interagito col server con l'altra estremità della comunicazione per fare tutta una serie di operazioni che quindi possono essere ricordate e tirate fuori al bisogno quindi il contenuto del carrello della spesa per esempio quindi questa informazione session id è necessaria che sia immagazzinata sul lato del client perché in http è il client che parte e va a fare richieste l'utente agisce l'applicazione va e fa delle richieste oppure l'applicazione per conto suo fa delle richieste perché non so perché è scaduto in time out perché periodicamente carica qualcosa eccetera e il client è comunque chi inizia la comunicazione verso il server quindi il client è che deve farsi riconoscere quindi questo identificativo di sessione deve essere inviato deve essere immagazzinato sul lato del client e deve essere inviato dal client ad ogni richiesta che è parte della sessione e poi non dovrebbe contenere informazioni diciamo di tipo come dire sensitive informazioni che sono private che non devono essere esposte non devono essere leggibili dagli utenti che non cioè da da chiunque che legga questo questo identificativo quindi deve essere un identificativo che il cui contenuto è oscuro perché perché così si riesce a evitare che qualcuno possa crearne uno falso fondamentalmente per questo motivo perché se ci scrivo scusate se ci scrivo dentro id Enrico Mazra email Enrico Mazra Polito IT e allora chiunque può prendere ricordarselo facilmente copiarselo facilmente caso mai venisse a conoscere oppure caso mai venisse a sapergli questi identificativi noi usiamo come informazione nome cognome email facilmente andate ad indovinare l'identificativo di sessione magari di qualcun altro ok quindi bisogna fare attenzione a come questi vengono creati generati per appunto per essere utilizzati come id di sessione in generale vengono immagazzinati come cookies cosa sono i cookies l'inglese vuol dire biscotto cookie e cioè fondamentalmente un piccolo pezzetto di informazione che viene mantenuto sul client ed ha una modalità di gestione già abbastanza definita dal protocollo HTTP perché esistono degli header HTTP che definiscono come trattare questo genere di informazione che è appunto il classico modo per far girare degli identificativi nelle richieste HTTP che altrimenti sarebbero stateless quindi sarebbero ognuno per conto proprio andrebbero ognuno per conto proprio e non sarebbero collegati insieme quindi il cookie è un piccolo pezzettino di informazione immagazzinato nel browser c'è un'apposita memoria diciamo del browser dedicata a questi cookie quindi sono qualcosa dell'ordine delle decine e centinaia di byte non di più sono gestiti in maniera automatica dei browser secondo una serie di regole che adesso andiamo a dettagliare anzi scusate perché subito andiamo a dettagliare ossia sono il browser si ricorda chi li ha impostati quindi da dove sono arrivati e il browser automaticamente spedisce se ce l'ha l'informazione del cookie verso tutti quando si fanno le richieste verso lo stesso server quindi sullo stesso dominio e sullo stesso percorso quindi se voi andate su www.polito.it e vi imposta un cookie tutte le volte che farete delle richieste verso www.polito.it col vostro browser spedirete questo cookie verso quel path che in realtà quello è il path root quindi slash oppure slash e qualcosa sotto quel dominio e poi è possibile lavorare un pochettino per fare in modo che sia spediti anche in altri casi eccetera ma a noi questo non non interessa trovate è un qualcosa di comunque standardizzato è il meccanismo dei cookie se andate a vedere l'RFC per esempio questo qui 6275 vi spiega tutto quello che c'è da sapere sui cookie ecco attenzione informazione di tipo appunto non dovrebbe essere mai immagazzinata nel cookie nel senso che cosa che non devono essere che sono dati sensibili ecco non devono essere immagazzinati nel cookie perché il cookie è leggibile come altre informazioni da parte per esempio dell'utente che apre il browser io adesso che so apre il browser adesso non so se il mio sito è il posto dei cookie no però non ho storage e vabbè diciamo che c'è qualche cookie di tracking questi non sono del nostro sito in cui peraltro non penso che l'abbiamo messi forse c'è qualcosa però vabbè non mi ricordo più comunque questi sono le informazioni del cookie e come vedete clicchiamo e ci possiamo leggere i valori ovviamente non ci dicono tanto perché appunto sono valori opachi e non sono valori informazioni sensibili cioè non c'è scritto nome cognome indirizzo e cose di questo tipo giustamente ok ok cosa la cosa sono caratterizzati i cookie i cookie sono caratterizzati da un nome e da un valore quindi sono coppie nome e valore quindi chi imposta il cookie decide il nome del cookie e il valore perché ogni sito ogni percorso sotto ogni sito ogni dominio può impostare più cookie e poi ci sono una serie di opzioni per esempio secure e se è settato il cookie sarà mandato solo se la richiesta viaggia su protocollo HTTPS HTTP only se è settato farà in modo che il browser non consenta a javascript di accedere a quel cookie questo per una cosa di sicurezza per evitare che il codice javascript possa leggere i cookie prenderlo andarlo a utilizzare in una maniera che non desideriamo e poi e poi è possibile impostare anche una data di scadenza oltre la quale quel cookie viene eliminato dal browser perché perché scade che abbiamo impostato questa data di scadenza infatti se voi andate a vedere trovate proprio name value la data di scadenza HTTP only sicuro e vabbè poi tutta una serie di altre informazioni però ecco vedete anche il dominio il percorso questo punto pulito punto it ecco quindi questo non ce l'ha impostato media pulito it il nostro sito ma in realtà ce l'ha impostato pulito punto it probabilmente sono quei cookie che mi impostano quando fate ok si accetto tutti i cookie e va bene adesso non interessa chi sono chi ce l'ha impostato era solo per farvi vedere un esempio di come potete anche andarli a vedere come usiamo questo meccanismo per fare l'autenticazione che è l'obiettivo di questa lezione di questa mattina bene vogliamo fare in modo che ci sia prima di tutto un meccanismo di autenticazione quindi l'utente ad un certo punto col suo browser la sua applicazione viene presentato una pagina in cui c'è la possibilità di mettere username e password e faremo una richiesta al server una richiesta di tipo post perché perché va a modificare lo stato sul server cioè crea una sessione quindi una richiesta di login è sempre una richiesta di tipo post quindi crea qualcosa che porta con sé nel caso più semplice come abbiamo visto username e password il server crea un identificativo di sessione in qualche maniera e ce lo manda indietro ce lo manda indietro sotto forma di cookie da impostare nel browser quindi c'è un header apposta quindi non è indicato ma c'è un set cookie che avviene nel momento in cui il server ci risponde e il browser si ricorda a questo cookie quindi avrà un nome un valore una scadenza eccetera e quegli attributi che vedevamo prima in più se lo desidera il server siccome questa è una richiesta HTTP come tante altre una post può avere un body nella risposta e quindi eventualmente può darci delle informazioni come risposta leggibili direttamente a livello applicativo quindi il cookie è gestito dal browser il body è la risposta che poi a livello della nostra applicazione possiamo andare a gestire come gestite che so l'aggiunta del task del laboratorio fate post nuovo task vi viene fuori nella risposta l'ID assegnato al database al nuovo task ora noi non è detto che abbiamo necessità di avere l'informazione del session ID perché poi in realtà è gestita se la mettiamo nel cookie direttamente dal browser quindi non è detto che sia necessario impostarla nel body della risposta però potremmo mettere altre informazioni per esempio io mi autentico come enrico.masala.polito eccetera e il server magari risponde con una serie di configurazioni del mio profilo mi piace diciamo il tema tutto scuro mi risponde con nome cognome indirizzo numero di telefono eccetera tutte cose che posso utilizzare per visualizzare all'interno della mia applicazione la mia faccina un urlo dove andare a prendere la mia faccina insomma cose di questo tipo quindi una risposta in cui appunto possiamo decidere che cosa mandare indietro ok get quindi questo è l'esempio di una richiesta successiva all'autenticazione che richiede autenticazione quindi per esempio dammi i miei esami ecco finora abbiamo giocato con la nostra applicazione degli esami o voi con i vostri tasche facendo finta che non esistessero gli utenti no però sul server possiamo mantenere le informazioni più utenti il server della segreteria del Politecnico mantiene informazioni su che chi ha quali studenti hanno dato quali esami per tutti quanti insieme non è che c'è un database per ogni studente no non è che c'è un API per ogni studente c'è un API in cui io vado a tirar fuori la lista degli esami ma mi devo essere autenticato perché se no prima di tutto non risponde nulla perché se non so chi sei io non do alcuna informazione e se so chi sei do l'informazione relativa a te no quella qui a cui tu puoi accedere no devi accedere quindi che so prendiamo appunto una get che è la cosa più semplice che possiamo fare senza andare a fare modifiche get exams bene quando si fa la richiesta il browser deve inviare l'identificativo di sessione e in queste slide ecco il nostro approccio che vi presentiamo stamattina lo farà automaticamente inviando il cookie che mantiene che scusate spedisce l'informazione relativa a quello che ci è stato dato in fase di autenticazione no quindi ci sarà stata data una stringa casuale numeri lettere eccetera insomma come queste che non hanno un particolare significato se non per il server che se l'è memorizzata e si ricorda che questa informazione corrisponderà ad un certo utente che ha fatto l'autenticazione quindi nel momento in cui riceve questa richiesta il server prima di tutto ha deciso cioè chi ha sviluppato il server ha deciso che get exams è un api che richiede autenticazione quindi deve arrivare con un cookie altrimenti non do alcuna risposta alcuna informazione nel momento in cui arriva il cookie vado a vedere qual è il valore session id vado a vedere se è valido a chi corrisponde e vado a tirar fuori l'informazione che corrisponde a chi ha creato quel session id e poi vado appunto a lavorare nel database eccetera e do la risposta quindi questo è il meccanismo di base che è simile al precedente ma c'è un pezzo in più il fatto che vado a verificare chi mi sta facendo la richiesta e di conseguenza estrarre l'informazione che deve essere resa disponibile a questo client che sta facendo la richiesta con quel session id e mi ricordo a chi ho assegnato quel session id in precedenza ok quindi ecco da qualche parte devo memorizzarmi l'informazione relativa a session id di solito viene memorizzata in maniera permanente sul database e poi distrutta quando non servirà più diciamo che noi come in molti altri aspetti dell'applicazione web che abbiamo visto durante il corso diciamo per semplicità lasciamo questa informazione solamente nella memoria del server quindi se arriviamo al server la perdiamo ma perché semplicemente per una questione di comodità come usiamo il development server di React per fare i test come non useremo il protocollo HTTPS perché ci introduce solo complicazione e non ci dà nulla in più nell'imparare come funziona l'applicazione e così via quindi solo per sviluppo noi la terremo in memoria ecco piccola nota riguardo alla sicurezza possibilmente usiamo sempre gli attributi che fanno in modo che il cookie sia il più sicuro possibile quindi mandarlo sempre su HTTPS e quindi con l'attributo secure impostato perlomeno quando lo stiamo sviluppando noi questo non lo faremo perché appunto abbiamo detto non vogliamo usare HTTPS perché ci dà fastidio poi viene fuori il browser attenzione il certificato non è firmato vuoi proseguire lo stesso eccetera ci dà solo fastidio però nel momento in cui prendessimo l'applicazione e la facciamo funzionare per davvero su un sito e così via avremo messo HTTPS e dobbiamo ricordarci di impostare questo attributo del cookie e poi usiamo cookie con l'attributo HTTP only perché perché diciamo c'è tanto c'è il rischio che ci sia codice javascript in giro che magari carichiamo anche in buona fede carichiamo tanto codice javascript all'interno della nostra pagina e il codice javascript all'interno della nostra pagina quindi della nostra applicazione potrebbe voler accedere a questi cookie e utilizzarli magari in una maniera che noi non desideriamo per andare a fare richieste che non desideriamo e così via prima di tutto rubarli e poi eventualmente fare richieste chi è che potrebbe caricare questo codice javascript beh noi carichiamo tante librerie usando react usando appunto pensate solo da quando abbiamo introdotto bootstrap abbiamo detto carica il css e va bene ma carica anche questo pezzettino di javascript perché perché serve a rendere dinamiche il menu un po' di cose i bottoni eccetera va bene ma ci fidiamo di quel javascript non è che l'abbiamo scritto noi non è che abbiamo fatto la review di cosa c'è scritto dentro quindi attenzione quello lì è codice javascript gira all'interno della nostra applicazione e se fa una chiamata al documento punto cookie eccetera può andare a leggere lì dentro nessuno glielo impedisce l'unica maniera per impedirgliela avere l'attributo http only impostato sul cookie allora il browser impedisce a tutti noi inclusi con il nostro codice javascript di poter accedere a quel cookie ma a noi va bene così perché? perché il cookie è gestito interamente dal browser quando facciamo accesso di nuovo stesso dominio stesso percorso quindi w, politi, eccetera il browser lo manda da solo non abbiamo da scrivere una riga di javascript da un lato è comodo e dall'altro è anche sicuro sicuro nel senso che ci evita di di doverci preoccupare dalla sicurezza di tutto il codice javascript caricato questo appunto è il cosiddetto cross-site scripting qualcuno che ci inganna facendoci caricare del codice javascript che fa delle cose che noi non desideriamo ed è anche per questo che quando caricavamo quel codice javascript dicevamo sempre mettete la l'hash di quello che dovreste ottenere perché? perché se lo scaricate in giro dalla rete dalle cdn eccetera e chi lo sa che qualcuno non si sia messo in mezzo e vi abbia fornito altro codice però neanche questo ci dà una garanzia assoluta perché magari lo sviluppatore bootstrap domani diventa matto e vuole mettersi a rubare tutte le passo e non è che lo possiamo sapere in anticipo evitiamo che il codice javascript acceda ai cubi punto e poi e poi ci sono tutta una serie di altre questioni aperte e che diciamo la sicurezza è un problema difficile dicevamo appunto è un po' un gioco di guardie ladri c'è chi voi inventate la serratura più sicura poi lo scassinatore inventa il sistema per riuscire ad aprire la serratura più sicura allora hanno inventato una ancora più sicura e così via e si va avanti così nell'ambito della sicurezza per esempio ci sono c'è questo diciamo metodo cross site request forgery in cui un utente è diciamo ingannato in qualche maniera da un attaccante a inviare una richiesta che non desidera non necessariamente tramite la vostra applicazione il classico sistema è l'email di phishing vi mandano un'email qui guarda c'è la tua banca ti stanno rubando i soldi clicca qui per fermare l'operazione adesso detta in maniera molto grezza ovviamente se ve la scrivono così però ovviamente avete qualche sospetto ma magari ve la scrivono un po' meglio ve la scrivono in maniera qui oppure c'è un link diverso da quello che voi vi aspettate c'è un bottone che sembra che faccia una cosa e ne fa un'altra eccetera ebbene qual è il problema il problema è che voi se cliccate aprite il browser il browser ha il cookie e il cookie viene inviato automaticamente se il link era la vostra banca anche se ve l'ha inviato qualcun altro e non conosce il cookie questo è una richiesta cross site che quindi qualcuno che vi manda un link e voi vi induce a cliccarci sopra e il browser vi manda il cookie e questo è un po' il motivo per cui tra l'altro nei siti più sicuri vi chiedono ormai questo diciamo meccanismo di autenticazione a due fattori cioè per fare un'operazione che richiede un elevato livello di sicurezza trasferire i soldi del vostro conto in banca eccetera dovete inserire un qualche cosa in più basta che siete autenticati sulla sessione perché qualcuno magari vi potrebbe indurre a a fare operazioni di questo tipo e quindi per autorizzarla dovete inviare qualcosa ricevuto su un canale diverso dal web ok quindi l'SMS sul cellulare o qualcos'altro insomma un codice generato da NAP eccetera eccetera però appunto qui capite qual è la complessità del creare un sistema sicuro in ambito web no? noi questa mattina ci concentriamo diciamo più che altro nel riuscire a dare un'esperienza personalizzata all'utente non tanto nel riuscire ad ottenere qualcosa di perfettamente sicuro anche perché è molto difficile dicevamo abbiamo bisogno di esperti e dobbiamo affidarci alle migliori pratiche che vengono fuori da diciamo da tutti questi esperti di sicurezza che definiscono i nuovi standard per diciamo avere i sistemi più sicuri possibili no? come devono essere fatte le password come consigliano di farle passo da tutti i meccanismi per impedire che si verifichino appunto i cross-site script in CSRF eccetera 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 no? in generale se usate un buon framework tendenzialmente avete pochi di questi problemi ma è sempre meglio diciamo avere il supporto di qualche esperto nell'ambito aggiornato su quello che quello che sono i modi più recenti diciamo di cercare di minare la sicurezza dei sistemi web ok quindi abbiamo fatto una grossa introduzione dicendo fate attenzione abbiamo un identificativo di sessione lo facciamo andare avanti e indietro occhio che qualcuno potrebbe far di tutto per rubarcelo abbiamo dato appunto un paio di best practice abbiamo HTTPS e non siamo in sviluppo quindi non stiamo facendo solo due prove attiviamolo usiamo i cookie solo HTTPS usiamo i cookie non accessibili da javascript ok vediamo come andarlo implementare quindi noi abbiamo React abbiamo un server express e vogliamo far funzionare tutto il meccanismo quindi come facciamo a impostare il cookie come facciamo a creare la sessione dove la teniamo facciamo una pagina di login come facciamo a fare logout eccetera rispondiamo adesso a tutte queste domande avendo fatto questa introduzione molto generale ok quindi questo è il flusso base sono due slide utente utente arriva e a un certo punto decide di autenticarsi potenzialmente all'inizio in molte applicazioni all'inizio è la prima cosa che vi chiedono perché se non vi autenticate non è che ti posso far vedere dell'email a caso entro sul gmail e la prima cosa che mi chiede è se non sono autenticato di autenticarmi perché deve sapere chi sono per farmi vedere la mia email ok quindi riempiamo un form in cui identifichiamo l'utente username e password validiamo i dati sul server quindi andiamo a verificare che effettivamente ci sia quell'utente che la password corrisponde a quella che ci è stata data e decidiamo se facciamo entrare o no con l'utente quindi se creiamo un id di sessione da dare a quell'utente attenzione che di nuovo questa è un'altra best practice da seguire assolutamente all'esame ci teniamo non memorizziamo mai 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 le password in chiaro da nessuna parte noi terremo nel password nel database perché abbiamo il database e quindi avremo informazioni dell'utente username e password nome, cognome, indirizzo quello che volete tenere perché avete bisogno la password non deve essere memorizzata in chiaro perché se no chiunque apra il database si legge la password e poi e poi una volta che la password può agire esattamente come voi nel senso che sarà l'amministrazione del sistema magari una persona onesta va benissimo ma magari qualcuno che ha rubato informazioni nelle database tutti questi leak di informazioni che capitano in giro per il mondo è qualcuno che è riuscito a scaricare un database di informazioni in cui ci trova user in password eccetera e poi prende le usa quindi almeno rendiamo difficile la vita a questi che diciamo riescono ad accedere in maniera non autorizzata a questo tipo di informazioni come usando un hash cioè una funzione univoca che è in grado di creare una stringa diciamo a partire da un'altra in maniera deterministica ma che non può essere facilmente invertita cioè io la mia password chiamiamo 1234 la classica password da non usare applichiamo una funzione e questa diventa una stringa che ha diciamo l'aspetto di una stringa casuale quindi io la vedo ma non so quale sia la password come fa a funzionare il meccanismo adesso poi rispondo alla domanda come fa a funzionare il meccanismo beh io so che la mia password è 1,2,3,4 quindi quando io la metto nel sito web mando 1,2,3,4 e per fare la verifica riapplico la stessa funzione di hash quindi questa funzione univoca che a fronte di un input mi dà lo stesso output verifico nel senso che non sappiamo chi ha altre password vanno in collisione con la nostra ok ma ci interessa no tanto non le conosciamo e diciamo è un po' come cioè è vero è vero che si potrebbe entrare con tantissimi altri password perché ho fatto un hash se l'hash è più corto della password sì no tendenzialmente se l'hash è più lungo della password no e si usano hash abbastanza lunghi è pochissimo probabile che ci sia una collisione nel senso che due password diverse diano lo stesso hash ok però questo è un aspetto di nuovo da discutere più con gli esperti di sicurezza però è vero che tecnicamente può capitare ma tanto nessuno sa qual è l'altra password che ci sia una password ce ne siano due che mi fanno entrare nel mio profilo se nessuno conosce la seconda diciamo è cambiato poco no il problema principale è non usare password stupide perché cosa fa chi vede diciamo la lista di hash delle password si mette con un dizionario a provarle tutte da A alla Z oppure queste password diciamo stupidine appunto 1,2,3,4,5,6 q, w,e, r,t si chiamano tutte queste password eccetera ci sono dei database di password stupide con varie varianti e basta conoscere qual è la funzione di hash che tipicamente è standardizzata perché di nuovo nel manipetto sicurezza è meglio non inventarsi niente di solito si fa peggio di quello che esiste e prova e nel momento in cui trova lo stesso hash ha trovato la password però che abbia trovato quella che avevamo noi o un'altra che va in collisione fa lo stesso perché tanto l'hash è importante che l'hash sia uguale quindi spero di aver risposto al vostro collega ok quindi la risposta breve non ce ne preoccupiamo dovrebbe essere un caso estremamente raro e comunque nessuno sa qual è l'altro password o le altre password che vanno in collisione ok se non funziona diamo una risposta generica al client di solito non scriviamo wrong username oppure wrong password eccetera perché lo username non esiste eccetera perché non vogliamo dare informazioni perché se io scrivo wrong username cosa ne deduce chi ha provato che quell'utente non esiste e non è una cosa bella da dire no cioè l'utente rico.masa non esiste allora aspetta magari si è registrato con un altro email oppure vabbè questo non esiste ne provo un altro senza aver bisogno di provare il passo se invece diamo una risposta non va appunto non non diamo informazione a chi chi vuol provare a entrare illegalmente o comunque fraudolentemente all'interno del nostro sito quindi l'autenticazione o va o non va e se non va non diamo informazione ok questa è la cosa migliore minimizzare la possibilità di indovinare o comunque avere informazione in maniera non autorizzata quindi se user neve e password sono corretti il server genera la session id il server questo session id ce lo manda indietro ah no scusate prima di mandarlo indietro se lo salva dicevamo per il nostro sistema di sviluppo se lo tiene in memoria quindi occhio che se fate ripartire il server pregete la sessione ma vabbè insomma fate delle prove va bene una volta che il sito funziona il server non dovrebbe mai ripartire il server poi risponde alla richiesta http con un header apposta setfuki con informazione nome uguale valore del session id con gli attributi quindi mettiamo http only true secure true se siamo su https noi non lo metteremo perché non siamo su https e il browser se lo memorizza quindi se lo immagazzina automaticamente e la risposta è la risposta alla richiesta di autenticazione è gestita dall'applicazione web quello che vi dicevo prima quello che mandiamo indietro come informazione decidiamo noi nome, cognome, indirizzo numero, letterario, referenza eccetera e l'applicazione deciderà di scriverci ciao Enrico ciao Enrico guarda oggi il tempo a Torino è perché ha visto che abito a Torino non lo so ecco per dire quindi questo cosa si risponde poi sta a noi che decidiamo cosa fare nell'applicazione quindi allora mi raccomando usiamo non inventiamo niente in questo contesto perché è quasi sicuro che si finisce per sbagliare seguiamo tutte le best practice e tutti gli accorgimenti che vi racconti questa in questa lezione quindi allora form di login niente particolare un normale form quindi qui prendiamo questo codice lo copiamo incolliamo e proviamo a farlo funzionare form con due campi username e password qui sotto non c'è la return con quel form ma insomma ovviamente password che se è un campo password di tipo password quindi quando scriviamo non si vede la password niente di strabiliante un form di tipo controlled quindi con due stati e semplicemente quando quando si premerà il bottone ci sarà un handler prevent default perché magari è un bottone submit e andiamo a chiamare una funzione che andrà a fare una richiesta sincrona al server una post con le informazioni username e password cercando di ottenere cookie e informazioni di sessione altri se il form è valido nel senso che se io decido che i miei username sono le email se non c'è una chiocciolina dentro lo username è inutile che mando la richiesta perché tanto non sarà mai valida perché se i miei utenti sono tutti email come identificativo dello username se non c'è la chiocciolina non è un email quindi posso fare le solite validazioni che ritengo di fare sul form sul client se le mie passano hanno almeno di autocarattere è inutile che mando una richiesta con una password a 6 perché tanto non passerà mai magari do possibilmente un feedback all'utente nel senso che se no l'utente dice non va cosa avrò fatto che non va eccetera devo ricominciare da capo e non capisco cosa c'è che non va oppure magari non si ricorda che usava la username la password pensava di usare uno username senza chiocciolina pulito it non lo so qualsiasi cosa se do un'indicazione all'utente magari è bene questo come in tutti i form quando c'è un errore possibilmente da un feedback ok quindi fare il form è la cosa più facile siamo già capaci niente di particolare no ecco ovviamente non ci mettiamo a implementare niente a mano vogliamo utilizzare un framework già predisposto per fare questa operazione noi suggeriamo di utilizzare passport che è un framework che funziona all'interno di node.js quindi un modulo per node.js si installa ovviamente facilmente come tutti gli altri e un middleware quindi un po' come gli altri che abbiamo già quello per fare le stampe di debug e quello per la validazione eccetera uno degli n middleware a disposizione e questo ci creerà le sessioni ci gestirà le sessioni perché suggeriamo questo perché uno dei più usati è flessibile e modulare ha più di 500 diverse strategie di autenticazione adesso è inutile che ci mettiamo se siete curiosi andate a vedere sul sito però fondamentalmente ha ovviamente quelle di base username e password però per esempio se volete integrarvi per dire con l'autenticazione google l'autenticazione facebook eccetera oltre ad ottenere i necessari token e cose per gestire il meccanismo con google facebook eccetera qui il codice è già scritto quindi diciamo che con poche operazioni riuscite a partire dagli esempi fondamentalmente a integrare l'autenticazione con altri meccanismi e che non siano semplicemente username e password quindi avere per esempio un meccanismo di autenticazione singola gestito da terzi eccetera ok si adatta bene a differenti tipi di database eccetera eccetera ed è già abbastanza ben configurato di default per cui diciamo che per esempio la questione http only è già di default così quindi ha dei buoni default ci sembrava ragionevole utilizzarlo ok cosa dobbiamo fare dobbiamo dirgli come vogliamo usarlo quindi prima di tutto scegliere la strategia di autenticazione da adottare come dicevo prima noi ci basiamo su username e password poi personalizzare e installare eventualmente il middleware addizionale che deve essere utilizzato perché ogni diciamo strategia di autenticazione ha i suoi meccanismi e decidere qual è l'informazione da collegare ad ogni specifica sessione e nel nostro caso fondamentalmente noi usiamo l'autenticazione per identificare l'utente quindi collegheremo al session id l'identificativo dell'utente ok perché con l'identificativo dell'utente riusciamo a fare tutte le operazioni personalizzate per quell'utente quindi fondamentalmente che so trovare la lista degli esami che corrispondono a quell'utente trovare la fornire la possibilità di agire solo sugli esami di quell'utente particolare e così via oppure i task nel laboratorio far vedere solo i task che corrispondono a quell'utente consentire solo a quell'utente di operare sui task e così via e quindi dobbiamo in qualche maniera dirgli come collegare l'identificativo di sessione che viene generato da passport con l'identificativo dell'utente che è quello che a noi interessa ok bene allora andiamo a vedere nel dettaglio questi sono dettagli più tecnici come funziona passport allora noi utilizziamo per far funzionare questo meccanismo della password la cosiddetta lock strategy che supporta l'autenticazione appunto con username e password quindi un altro modulino da installare un po' come avete visto dai JS poi se ve lo date delle funzionalità addizionali c'erano dei pezzettini a installare e a importare cosa dobbiamo fare con questo meccanismo local strategy fondamentalmente fornire una callback tanto per cambiare in javascript è tutto una callback oramai siamo a fine corso l'avete sicuramente capito cosa fa questa callback prende username e password e va a verificare se sono validi oppure no quindi ovviamente questa è una strategia di tipo generale mi arrivano user nel mio password qualcuno mi deve dire se va bene o no se va bene io genero l'identificativo di sessione e tutto quanto se non va bene fermo quindi come come funziona funziona che in realtà non si usa il valore di ritorno ma si usa un terzo parametro che è di nuovo una callback che ci viene data questa volta da passport e che deve essere chiamata in una certa maniera secondo che tutto abbia avuto successo oppure no bisogna chiamare questa done che è il terzo parametro con diciamo fino a tre parametri di cui il secondo è il più importante che è o false oppure un valore che è l'identificativo dell'utente ok un oggetto un qualcosa che non valuti a false quindi se abbiamo avuto successo questo caso altrimenti diciamo mettiamo false e fondamentalmente viene viene si capì passport capisce che l'operazione non ha avuto successo a cosa servono gli altri parametri adesso lo vediamo ma fondamentalmente a dare dei feedback sugli errori il primo se c'è stato qualche errore che è di tipo recuperabile per esempio un errore nel parlare col database eccetera e il secondo per un eventuale messaggio d'errore che si vuole diciamo far avere quindi user name password tra l'altro user name password sono già se li usiamo in express integrati col meccanismo diciamo di express di estrazione dei parametri siccome ci arrivano in una richiesta post su qualche url il passport quando gli diciamo di usare questa strategia va automaticamente a prendere user name password da rec body che è il body della richiesta quindi noi in fase di creazione di questa richiesta post a fronte della pressione del bottone di login dobbiamo creare un oggetto json perché parliamo in json così quando arriva body lo interpretiamo come json e abbiamo i nostri campi e nell'oggetto json avremo user name due punti qualcosa password due punti qualcosa ok ok done si usa in questa maniera come vi accennavo prima si chiama o così user se va tutto bene quindi con un'informazione relativa all'utente un'identificativo dell'utente oppure false se non va bene se voglio dare una spiegazione posso usare un terzo parametro opzionale oppure posso usare il primo parametro senza niente altro per dire che c'è stato un problema dell'applicazione in questo momento il database non è disponibile non posso autenticare nessuno anche se conosce la password perché così e c'è questa ulteriore opzione quindi user può essere un qualsiasi soggetto che contiene informazione riguardo all'utente che è stato appena validato quindi autenticato ok quindi tipicamente contiene l'id lo username e altre informazioni nome cognome insomma dove viene usata la password per fare l'autenticazione ha ragione in questo esempio questo esempio questo non va infatti non è non è il meccanismo completo infatti ecco adesso vi faccio vedere questo ci sia sbagliato sta slide potrebbe essere fatta meglio diciamo che giustamente come osserva il vostro collega sarebbe bene usare anche la password per fare l'autenticazione non solo lo username quindi in realtà dobbiamo passare anche la password e ha una funzione che va su database e va va effettivamente a verificare no che che concide anche la password no qui fondamentalmente se uso solo lo username mi vado solo a vedere se c'è lo username o no però qualsiasi passo mi sia stata fornita la prendo per buona quindi grazie ottima osservazione quindi mi sa che qui si get user eh avevamo il get user ma si sono indicati in mettere virgola passo vedete come tra l'altro è facile sbagliarsi no quindi vabbè poi appunto nell'esempio che andiamo a fare dopo in quello che pubblicheremo alla fine su react scorsa ovviamente sarà a posto e correggiamo poi le slide a fine lezione grazie immagazziniamo la password sul server come vi dicevo mai ok dobbiamo specificamente calcolare la password o fa già password ma noi ne parliamo proprio in questo momento quindi mai magazzinare le password in chiaro nel server dovunque file di testo database dovunque sempre fare un hash della password no di nuovo non inventatevi niente questo sistema usatelo se non capite tutto mi dispiace nel senso vabbè possiamo parlare se avete un dubbio provo a picchiarirvelo però richiede qualche conoscenza in più di sicurezza criptografia eccetera cos'è una funzione di hash scritto graficamente sicura qualcosa che gli diamo un input e deterministicamente produce ad esempio lo stesso output ma cambiamo appena appena l'input produce un output molto diverso ok questa è una funzione di hash sicura perché perché così dall'hash non siamo in grado di risalire a quello che è stato messo in ingresso ma se noi sappiamo l'ingresso viene sempre fuori quel risultato quindi l'hashing è appunto una funzione come si dice one way nel senso che non sappiamo cosa è stato messo in ingresso non è il quadrato che so prendiamo 3 facciamo il quadrato 9 questa non è una funzione one way perché facciamo la radice quadrata e torniamo indietro la funzione un hash è un qualcosa che non si riesce ad invertire se non provando tutte le possibilità ecco ecco noi vi consigliamo anche qui vi diamo un consiglio usiamo questo bcrypt che è un modulo ed ha una serie di funzioni da utilizzare per fare l'operazione di diciamo di trasformazione della password in hash e anche di verifica degli hash quindi gli diamo la password gli diamo un hash e lui verifica se coincide questo perché in realtà fa un'operazione un po' più sofisticata aggiunge un pezzettino casuale memorizzato in chiaro in questa stringa in più all'inizio nella stringa c'è scritto che tipo di di funzione di hash è stata utilizzata eccetera quindi sostanzialmente è una cosa un po' più sofisticata come facciamo a scrivere allora noi nel nel server diciamo la password la prima volta con l'hash beh noi vi consigliamo di utilizzare questo sito io ho messo mettiamo password no bcrypt prendete questo copia e lo mettete nel database oppure oppure se avete la pagina crea un nuovo utente eccetera nel bcrypt ci sarà una funzionalità che vi crea l'ash però diciamo che noi per cominciare abbiamo gli utenti che non si possono registrare ma sono già presenti perché così è più semplice abbiamo un pezzo in meno tipicamente anche per l'esame non vogliamo la parte di registrazione utente perché è solo codice che non aggiunge niente all'applicazione ci teniamo molto di più a vedere come è impostata l'applicazione la logica e tutto quanto piuttosto che mettersi lì a scrivere del codice solo per scriverlo per registrare l'utente occhio che ogni volta che premette il bottone esce un valore diverso quindi però tutti i valori vanno bene questo perché perché come vi dicevo in realtà c'è un pezzettino in più che viene scelto random messo in chiaro perché rende più difficile a chi eventualmente avesse l'esce delle password di tante password andare a verificare se due passo sono uguali perché se la funzione univoca voi avete scritto password e un altro ha scritto password gli hash escono uguali anche se non sapete cosa ha scritto e quindi con quell'attacco a dizionario che dicevamo prima proviamo tutte le parole di dizionario proviamo tutte le password comuni se ne trovate una ne trovate 10 se vedete che ci sono 10 hash uguali se invece l'ash è diverso per ogni password anche se è uguale perché in più ci aggiungo un pezzo che è diverso per fare l'ash sostanzialmente riesco a limitare ulteriormente questo problema caso mai gli hash delle mie password andassero a finire in mani sbagliate comunque noi non preoccupiamoci di questo problema questo perché bcrip sale agli hash sì sì esattamente però non voglio mettermi qui a spiegare la storia del sale perché altrimenti si chiama sale questa stringa questo pezzettino in più che viene aggiunto proprio per evitare che ci sono 100 utenti che hanno la stessa password e si vede che hanno la stessa password per cui mi concentro su quei 100 utenti perché se riesco a bucarli ho 100 account ok però a noi non interessa nel senso che noi vi abbiamo dato il modo per generarlo qualsiasi di questo va benissimo e tutti rispondono con password adesso 1,4,5,6 eccetera posso scrivere quello che voglio qui lascio il valore di default e di nuovo un altro parametro ma non mi interessa l'importante è che abbiate un modo prendete questa stringa copiate incollate nel database fine e poi abbiamo il nostro modulo bcrypt che adesso andiamo a vedere come usarlo quindi abbiamo delle funzioni che sono asincrone perché potenzialmente potrebbero metterci un attimo a lavorare fare i loro calcoli ma tanto noi siamo pratici quindi funziona sincrono promis eccetera come facciamo a fare l'hash della password bcrypt hash password con quel parametro 10 qualcosa di simile però questo solo in fase di registrazione dell'utente se non implementiamo possiamo andare sul sito e farcelo generare fine che ovviamente va bene per il corso non è mai bene mettere a password su un sito qualunque diciamo appunto noi abbiamo dei compromessi da seguire perché di nuovo non usiamo l'https perché ci dà solo fastidio però voi quando andate a fare una cosa per davvero dovete usarlo e così è la stessa cosa qui dovete implementare la registrazione dell'utente in maniera che la password non giri dappertutto quello che invece ci interessa è fare il check se la password plain text cioè quella che scrivo proprio nel form 1,2,3,4,5,6 mettiamo una password più intelligente av1 2021 così intelligente però insomma almeno un po' diversa da quelle di base se voglio verificare se fa il match con l'hash c'è una funzione compare non è un problema mio capire quella faccenda il 10 l'hash il sale tutto quanto fa tutto da sola ci risponde sì o no punto quindi una in chiaro e l'altro è lo hash che ho tirato fuori la database che ho già messo va bene ci sono diversi prefissi eccetera insomma non importante che seguite le procedure che vi abbiamo dato vabbè questa è 2A ma diciamo sono diverse implementazioni ma noi va bene cioè c'è uno standard eccetera ci va bene sul sito che abbiamo dato va bene così usate quello fine va benissimo se Bcrypt se lo gestisce come facciamo a fare la verifica bene allora qui abbiamo quella get user in cui prima abbiamo dimenticato di passare la password male qui ovviamente la mettiamo e cosa facciamo andiamo a tirare fuori la password che corrisponde ad un certo utente quindi in cui suppongo che lo username sia l'email che è una scelta abbastanza ragionevole perché l'email è tipicamente unica bisogna che l'identificativo dell'utente sia unico e poi dunque faccio girare la query se c'è un errore niente se tiro fuori una riga quindi riesco a tirar fuori un valore allora avrò l'id dell'utente ok se ce l'ho nel database avrò il suo username e poi avrò password che sarà quel hash come faccio come ho fatto dal primo Bcrypt compare la password in chiaro e l'hash che ho tirato fuori al database se tutto va bene ritorno promise risolta quindi fa response e mi dà una promise fulfilled se va tutto bene quindi il valore della promise è true io dico ok tutto bene e do l'informazione dell'utente quello che voglio io un oggetto che ha l'informazione dell'utente potrebbe esserci anche nome cognome indirizzo quello che volete if if results risolve vaio qui ovviamente quando cambiamo qualcosa nelle slide si riguardano n volte ma c'è sempre poi qualcosa che non va abbiate pazienza get user info dovrei avere un meccanismo che mi dice se qualcosa non è andato ovviamente non posso fare risolvere risolvere la stessa cosa adesso però bisogna andare a vedere cos'era ma comunque credo sia reject la vediamo poi nell'esempio anche questo la sistemiamo comunque sulla base della risposta della compare dobbiamo decidere se vogliamo fare entrare o no il nostro utente cerchiamo solo di concludere il discorso così poi lasciamo la seconda parte della lezione per l'esempio e andiamo a sistemare questi problemi ok finora abbiamo solo visto se la password coincide non abbiamo ancora la sessione e quindi abbiamo bisogno di creare questa sessione questo id di sessione e creare la sessione e mantenere le informazioni come facciamo ulteriore middleware in express modulino posta a disposizione in express si chiama express session ok che di default se non diciamo niente memorizza le informazioni di sessione in memoria abbiamo detto va bene per il sviluppo ma potrebbe anche mettere nel db eccetera eccetera come si fa a usare app use come tutti i middleware session e dobbiamo passare una serie di informazioni ora qui è inutile che andiamo nel dettaglio dobbiamo semplicemente passargli una stringa segreta perché così funziona perché fa un po' di cifratura fa un po' di cose su interna ma a noi non interessa e poi inizializzarlo e insomma dirgli di attivarsi quindi qui trovate il dettaglio ma in realtà appunto ci interessa poco a noi interessa capire il meccanismo che vi ho spiegato prima c'è questo id di sessione che a un certo punto diciamo ha express session di generare e che andrà avanti e dietro nel cookie noi abbiamo dei valori default qui da impostare c'è questo secret lasciamo per cosa se ne fa l'importante che avete questa stringa possibilmente mi raccomando una volta che sviluppate l'applicazione la fate funzionare come si dice in produzione cioè in un contesto reale questo valore è da tenere segreto quindi evitare di fare il commit sul github a me ottenerlo però ottenerlo riservato ecco vabbè store dove metterlo noi diciamo appunto il memory è il default quindi ci va bene se non c'è il caso di metterlo resave noi dobbiamo metterlo a false e anche l'altro a false perché sono condizioni un po' particolari lasciamo perdere non non ci interessa quindi lo usiamo così punto e poi in più abbiamo bisogno ancora di un paio di callback da definire perché Express Session ha bisogno di sapere come fa la conversione tra l'id di sessione e il valore dell'identificativo dell'utente per fare questa operazione ha bisogno di due funzioni una che serializza una che deserializza l'informazione cosa vuol dire sostanzialmente diciamo a fronte dell'arrivo di un id che è quello che noi sostanzialmente vogliamo mettere nascosto sostanzialmente dentro l'identificativo di sessione dobbiamo essere in grado di tirar fuori l'utente come facciamo bene noi prima di tutto decidiamo che cosa mettere nell'identificativo di sessione l'id dell'utente per esempio l'id unico che abbiamo nel database l'email potremmo pensare se ci garantisce che sia un'email unica e così via tipicamente però un'informazione abbastanza piccola perché un identificativo e poi definiamo queste funzioni che ci consentono a fronte del fatto che abbiamo un utente di tirar fuori l'id da usare nell'identificativo di sessione quindi fondamentalmente ci serve in fase di login è usato automaticamente da passport per creare l'identificativo di sessione e in fase di controllo che siamo autorizzati a fare le cose le operazioni a fronte della ricezione di questo identificativo dal identificativo di sessione che estrae passport in qualche maniera noi dobbiamo essere in grado di recuperare il nostro utente ok il nostro utente è l'oggetto utente che contiene le informazioni che ci servono a far funzionare il nostro codice ok io credo che la cosa migliore sia poi vedere come come funziona nella pratica il codice nel senso che noi dobbiamo solo avere un oggetto utente dal quale estraiamo un id unico che decidiamo di mettere nella sessione oscurato perché viene oscurato forse in oscurato nell'id di sessione l'id di sessione è opaco non si vede qual è l'id dell'utente e quando arriva quest'id di sessione passport deve essere in grado di rimapparlo sull'utente quindi ci darà l'id deoscurato e noi dobbiamo essere in grado di ritrovarci il nostro oggetto perché lo dobbiamo fare noi perché sarà da andare a prendere nel database e infatti ci trovate la call la chiamata una funzione che va a recuperare la database ok niente quindi questo è tutto il discorso vabbè qui trovate dove dove va a mettere le informazioni ma in realtà noi questo rec session passport non andremo mai a toccarlo perché fatte queste due funzioni noi diciamo vedremo sempre solo l'utente ok quindi questo possiamo andare avanti vediamo come scrivere le route quindi fondamentalmente la login il check dell'accesso e la logout e poi abbiamo finito login bene abbiamo il form l'abbiamo visto prima arriviamo con un po' su API login cosa facciamo chiamiamo un middleware prima di gestire la nostra richiesta passport authenticate local local è fisso perché vuol dire di usare quella local strategia local ok andrà automaticamente a cercarsi in rec body username e password quindi noi dobbiamo creare un oggetto javascript ah un oggetto scusate json con username due punti qualcosa passport due punti qualcosa che arrivi nel body della post e lui fa tutto perché? perché noi abbiamo già registrato tutto il necessario per andare a fare l'autenticazione quindi abbiamo già registrato prima use local strategy abbiamo già registrato la callback che fa l'autenticazione lui sa che se noi inseriamo questo middleware andrà a chiamare quella callback e aspetterà che quella callback ritorni l'oggetto e non false se ritorna tutto bene se no diciamo se no non passa avanti ok se va tutto bene in rec user adesso arriva la domanda in rec user ci ritroviamo aggiunta da password l'informazione sull'utente ok e poi possiamo farne cosa vogliamo come dicevamo prima potremmo risponderla indietro nel body perché così in più diamo altre informazioni nome cognome indirizzo eccetera oppure preferenze voglio tutto scuro voglio tutto chiaro colori eccetera ok c'è una domanda questa richiesta http è la parte meno sicura giusta nel senso che il body rimane in chiare potrebbe essere intercettato sì nel nostro esempio sì però noi stiamo sviluppando e se introduciamo l'https introduciamo solo complicazioni non abbiamo alcun vantaggio ok però in realtà ovviamente questa richiesta siccome c'è la password che passa deve andare su http in uno scenario reale certamente questo sì ma tra l'altro anche tutte le richieste successive perché anche l'id di sessione deve andare su https perché chiunque abbia l'id di sessione può impersonarci perché la verifica che noi siamo autenticati è fatta solo sull'id di sessione ok però consentiteci di fare questa cosa in maniera semplice come ne facciamo altre abbiamo il proxy per gestire le ipi insomma abbiamo una serie di cose semplificate perché altrimenti facciamo il corso di sicurezza non facciamo il corso di applicazioni però è giusto sapere che questa cosa andrebbe protetta dove mettiamo le informazioni in react beh nel momento in cui abbiamo dell'informazione che arriva ad un api usiamo le tecniche che conosciamo abbiamo visto finora quindi niente di particolare vogliamo memorizzarci il nome utente la password è uno stato normalizzato come se caricassero una lista degli esami doveva finire in uno stato carichiamo la lista di task doveva finire in uno stato carichiamo l'informazione relativa ad un utente se ne abbiamo bisogno e va a finire in uno stato niente di particolare probabilmente vogliamo mantenere questa informazione per usarla successivamente scrivere ciao Enrico su tutte le pagine Enrico cos'è? è uno stato è l'utente autenticato ok nostri suggerimenti per mantenere le cose più semplici ovviamente vabbè memorizzarle in uno stato o anche in un context perché tipicamente questa è proprio la classica informazione che va sparsa in giro per tutta l'applicazione e allora per non doverla passare da tutte le parti se volete potete usare un context ma non è indispensabile diciamo nell'applicazione più semplice probabilmente ve la cavate anche senza context senza troppa complicazione e poi e poi ecco poi bisogna fare attenzione di quando ne ho bisogno nel senso che potrei anche avere già l'identificativo di sessione se non ho chiuso il browser se è già autenticato come succede in molti siti voi ricaricate il sito e non è che vi richiede la password se siete già autenticati se lo ricorda e vi mantiene autenticati bene se io creo un API apposta che mi dà solo un'informazione relativa all'utente se l'utente è già autenticato per esempio potrebbe essere una cosa che io faccio non appena l'applicazione parte quindi con una use effect dipendenza array vuoto quindi da fare al primo mount dell'applicazione vado a vedere se per caso sono già autenticato sono già il cookie di autenticazione quindi il session id non è scaduto è valido bisogna dimostrare il form di autenticazione posso già andare a caricare i miei dati questi sono i nostri due consigli e quello che faremo poi nell'esempio perché appunto siamo qui siamo quasi siamo a un punto quindi un attimo di pazienza è vero che siamo non è dieci ma finiamo dopo il login alcune root devono essere protette cioè la root exam voglio caricare i miei esami i task voglio caricare i miei task e devo dire no non puoi accederci se non mi dai l'informazione dell'id di sessione e se non è un id di sessione valido quindi funziona tutto il meccanismo che abbiamo visto prima noi sappiamo che il browser automaticamente ci spedirà il cookie http quindi con l'id di sessione dobbiamo solo dire che la ruta è autenticata e andare a recuperare l'informazione dell'utente tra l'altro appunto il cookie può essere spedito solo dal sito quindi dal dominio e dal path da cui è stato impostato ma noi diciamo furbescamente usando il meccanismo del proxy abbiamo già risolto il nostro problema perché il client vede sempre lo stesso server quindi il cookie è impostato da express e arriva a express ma sta dietro all'altro server e quindi non ci sono problemi di interazione con altri server perché se ne vede sempre uno da parte l'applicazione come facciamo a proteggere una root sostanzialmente dobbiamo andare a chiamare questa funzione su rack per verificare che effettivamente la richiesta sia autenticata cioè contenga un id di sessione valido ok quindi questo è il meccanismo aver importato e passport aver fatto use passport eccetera eccetera ci mette a disposizione questa funzione su rack che è la richiesta quindi cosa facciamo diciamo potremmo farci la manina noi in ogni root quindi aperta graffa farci noi ogni volta if rack is authenticated e else preferiamo crearci un piccolo middleware noi ok e lo creiamo in questa maniera quindi questo codice è solo da prendere e copiare uguale identico è una funzione i tutti i middleware express sono fatti in questa maniera rack res next quindi la richiesta e la risposta e next da chiamare per agganciare il prossimo middleware quindi if rack is authenticated noi passiamo oltre e andiamo direttamente al nostro middleware altrimenti ci fermiamo non chiamiamo il next e facciamo rest status 400 eventualmente con un messaggio non autenticato come si fa a inserire un middleware in una richiesta basta metterlo diciamo nella lista di parametri della root quindi a un certo punto mettiamo anzi a un certo punto subito dopo la root mettiamo is logged in che è la nostra funzione middleware ok quindi tutte le volte che la mettiamo per ogni richiesta che arriva su questa root andrà a fare la verifica if rex is authenticated chiama next cioè va avanti con la prossima funzione altrimenti fa che rispondere e finisce lì tutto il discorso niente di di quanto c'è successivamente viene processato logout e abbiamo finito come facciamo a fare il logout beh forse questa è la cosa più semplice che c'è basta chiamare un'apposita funzione che ci ha creato passport con il meccanismo delle sessioni anzi express session con il meccanismo delle sessioni per distruggere la sessione è una cosa lato server quindi è solo un'operazione lato server basta chiamare una funzione lato server ovviamente non deve essere necessariamente autenticata noi cioè sì certo se non è autenticata non ci sarà niente da distruggere ma noi non abbiamo bisogno di fare alcuna verifica faccio logout se c'è la distrugge se non c'è fine non farà niente ok quindi distrugge tutte le informazioni di sessione e cancella session id ok direi di far pausa visto che siamo arrivati alle 10 3 minuti e poi andiamo a nella seconda ora e mezza andiamo a implementarlo sul nostro esempio che trovate già online quindi chi nella pausa vuole prepararsi abbiamo già sul nostro repository av1 al corso al week 12 c'è già il client il server nelle versioni diciamo base appena appena aggiustata quindi ci sono un po' di dao che ho già sistemato diciamo per poter accedere al database dove ho aggiunto una colonna una tabella con gli utenti ma adesso andiamo a costruirci sopra ed è sostanzialmente la versione del react scores che abbiamo portato avanti fino ad ora nell'ultima versione che abbiamo visto l'altra volta quindi con tutte le use effetti che caricano i dati aggiungono tolgono eccetera ok facciamo la pausa scusate nella login c'era una domanda non dovremmo ritornare 401 per non autenticato forse sì diciamo che 400 è un codice abbastanza generico eh sì insomma diciamo dove sono abbiamo http return codes codes unautorized si si può mettere 401 diciamo che i 0 0 sono codici generici no può esserci non c'è non c'è una motivazione specifica sì diciamo 401 forse sarebbe sarebbe meglio tanto dipende cosa facciamo poi sull'applicazione client no cioè se se proprio vogliamo distinguere cosa è successo ok però cioè tanto non è non è un 200 no se andava bene era un 200 o comunque della serie 200 e se non è 200 c'è un problema poi ok vogliamo distinguere diciamo serie 400 ovviamente c'è un problema non si può fare dare corso a questa richiesta non è un interno server la serie 500 va bene però ok grazie per la puntualizzazione magari questo lo dico i colleghi se ritengono anche possiamo mettere 401 ok non ci sono altre domande quindi io come sempre interrompo e faccio ripartire perché così comincia a processarsi la gestazione in cloud 5 minuti e partiamo con l'esempio ok grazie quindi stop e riparto subito grazie a tutti grazie a tutti